L'intenzione nobile era di incontrare i candidati alla presidenza di Regione Lombardia per chiedere che cosa hanno intenzione di fare per rilanciare il lavoro. I Cinque, Ambrosoli, Maroni, Albertini, Carcano e Pinardi hanno però disertato l'incontro organizzato dalla FIOM CGL al Teatro Carcano di Milano. Ma al convegno lavoro e democrazia, difendere il lavoro per uscire dalla crisi, non sono comunque mancate le voci autorevoli le quali hanno ribadito che i sindacati e i lavoratori devono avere voci in capitolo nella discussione delle politiche industriali. Certo, in un paese che corre il rischio che l'insieme del sistema industriale salti, guardiamo cosa sta succedendo, da fin meccanica alla siderurgia, alle telecomunicazioni. Quindi è chiaro che questo è un paese che ha bisogno di indirizzare, di decidere un piano straordinario di investimenti dentro linee generali che mettono al centro uno sviluppo di questo paese e soprattutto creare nuovi posti di lavoro. L'essenziale è che non si immagini che i temi che pone la FIOM siano per editto divino esclusi dal confronto. Io penso che la FIOM in questi anni abbia sensatamente e razionalmente continuato a chiedere, per esempio, di poter discutere di politica industriale a proposito dell'automobile, di poter discutere in questo paese di cosa fosse più importante, se non era giunto il momento, lo dico ai riformisti, di proporsi il tema del trasporto pubblico, del trasporto collettivo, di rilanciare la politica degli investimenti sulla ferrovia, sulla rotaglia, di lavorare sulla intermodalità, sul rapporto tra autostrade del mare e ferrovia. Cioè, mi paiono temi seri.